Sai, lo studio è importante per la tua vita, per il lavoro. L'amore si può aspettare, non ti preoccupare, aspetterai. Ciao, ma tu come stai? È un'armonia sospesa, sfiora l'anima con fervore, nelle note della vita. Le dolci note della vita. E' un'armonia sospesa, sfiora l'anima con fervore, nelle note della vita. Grazie. 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 Grazie.